Pace qua che già il game inizia, per una volta che volevo che il caricamento durasse tanto non si riesce Continueremo dopo ragazzi Continueremo dopo, rimanete sintonizzati Ma dimmi te, guarda, incredibile Per una volta che vuoi che i silver ci mettano tanto a caricare, ci metto un poco Sembra veramente al contrario funziona il mondo, al contrario Questa scena va sulla, oddio L'abbiamo in passato in realtà fa fede che abbiamo letto un sacco di volte il manuale del geometra Quindi diciamo che non è proprio così una novità È sempre bello tirarlo fuori, ok? Ma in realtà è anni che ormai ce l'ho Dal 2017 che ce l'abbiamo letto in live tante volte Tra parentesi, questo è il mattone Non so se vedete quanto è grosso È tipo sei dizionari Vi dico quante pagine ha Non si riesce a capire Sto, un attimo E mi scusi Il manuale del geometra qua non si legge mica da solo E che cazzo Ma dimmi te, ok Irrispettosi sono, irrispettosi Oddio quanto è pesante Sanitarium, grazie del resub Bentornato a Sanitarium nella Fierix Army Grazie mille del suo resub Troia Troia Oh, ha missato la Q Ok Oh Bella madonna Troppo Eddie dà un po' fastidio Tra stunne E il range infinito che c'ha Oh, bella che pusha verso me la wave Mi piace così Ok Ok Dopo ragazzi continuiamo col manuale State tranquilli Ok Concentrazione Guarda lì Guarda lì che sta con lo stun lei Sta puttana Va bene, va bene Concentrazione Silenzio in aula Guarda che distanza mi ha preso Ok Aia Andiamo back Possiamo prendere le scarpe E il Dark Seal Quindi è un distretto back Ecco Così ci ricarichiamo anche le pozze Che ci dovranno di più grazie al Dark Seal Con le scarpe raggiungiamo meglio Annie Quindi ottimo Oh Ciuff ciuff ragazzi Ciuff ciuff in chat Arrivato le ricompense dell'Eptrain Ah, l'ho preso Ho preso il caretto signori Grazie dei soldi Grazie, grazie signor caretto dei soldi Ecco Madonna quanta movement speed Ai miei tempi Annie non prendeva movement speed Ai miei tempi Annie faceva schifo Minchia se hai visto una sottotora è finita E conoscendomi potrebbe accadere Ok Invece non è accaduto Anzi Ha tirato anche un bel flash Molto bene Amumu non si è ancora fatto vedere Cazzo c'ha il tibers Avrei voluto dei varla però Giustamente è un po' più di exp di me Bruciata 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 Ragazzi ho pensato Non l'ho detto Non l'ho detto ma ho pensato Una battuta Con il nome di Annie E il fatto Che l'abbia usato l'Ignite Adesso non la dirò A voce alta Ma so che qualcuno L'ha capita Vedo che la chat L'ha capita Annie L'ho pensata pure io Ah ma è un Dlarz Che cos'è Ah ma è Non lo dico Non lo dico Che cos'è Soltanto in questa occasione Van Io non ho detto niente Scusatemi Dico soltanto Che ho un video Su Youtube Che si chiama Dlarz Dlarz impazzisce Per un Frank Un Frank Inteso come Prank ragazzi Non pensate a cose brutte Non pensate a cose brutte Forse nel 2017 L'avrei fatto A voce alta Sta battuta Però i tempi cambiano Ragazzi Bann Ma io non ho detto niente Ragazzi Se voi pensate male È colpa vostra Non pensate male Eh scusate No Basta Basta Ok A mu niente Bann Io non so Di cosa voi state parlando Io ho detto Che ho un video Su Youtube Andate a cercarlo Si chiama Dlarz impazzisce Per un Frank Nel senso Che è un Frank Ragazzi Però con la F Così ha detto La bambina napoletana È Insomma Cosa c'entra Con Annie Assolutamente Niente Anguria Infatti Non so perché La gente Stia facendo Stia mettendo in testa Strane cose Assolutamente Nulla Uno Eh no Lui vuole Agancare Per forza Vero? Eh beh certo Lo sta facendo Dove è andata? Oddio dove è andata Quella Vabbè ma Scusatemi ragazzi Non mi muovo più Lo prometto Prometto che non mi muovo più Come mi sono permesso ragazzi A volermi muovere Io non capisco Guarda Cioè Siamo nel 2020 Si sta fermi Si Che ne ha il 5 Non è una bella cosa Suppongo Troppi cc Cazzo Quasi quasi Mi prendo le scarpe Le mercoli Perché qua Se no È dura Romare Si può fare qualcosa Minchia Top 4 0 Eh la Riot ha deciso La Riot ha detto basta Mi sa Bot sono immortali Nel vero senso della parola Cazzo Non Vada Full vita di nuovo Come non fosse successo Bene Bene Ottimo Diamo di queste Mi sa Due ultimi mortali 2 0 Kyle 4 0 Top La Riot ha deciso Ragazzi Mi dispiace L'UV È Gold 4 L'ho abbandonato Adesso Devo gold 4 Con questo Così questo Sarà il mio Main Il l'ho è senza oggetti Sta per far Serenetton Va bene Annie Grazie Grazie anche alla torre Per la partecipazione Oddio Dell'insalata L'ho vista Prima io Coglione Magno Io Insalata Apollonius Grazie mille Del resub No Grazie mille Dei cheers Caro Eh beh Ovvio Perché Wunder Ha copiato Più dei miei pick Quindi Se l'è meritato Potrebbe esserci Zillian In my head Aveva un piano Però non sappiamo quale Lui si ulta Tanto uno o l'altro Di ulti ce l'hanno Quindi Ma voglia Prenderli in bot Quelli E' ne ancora lì Vero Oddio Arrivo Cosa fai Mi appazza Io raga Non so che fare Purtroppo Io non so che fare Nesta partita Sarò sincera Io non posso One shotare nessuno Che si fa? Che si fa? Marius Grazie mille Dell'R-Sub Bello Bentornato Nella Felix Army Bentornato Boh Posso romare Toplane Non lo so Bot Non li posso toccare Sti due Ambubu è immortale Così Vabbè Ai 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 In late ce la posso fare Sinceramente Per adesso No Non c'ho ancora i danni Loro le ulti Tanto le hanno sempre Lo stesso Oh Gesù Ah andiamo avanti così Eh non so che dire Andiamo avanti così Split push Certo Ecco qua Sono immaginemente In top a split hard Gabby Sei tu che laghi Sodier Penso che Sia entrambe le cose Oggi sempre Pick troll Assolutamente si Steph Mi hai visto Giocare serio? Ci spieghi il champ Quale dei tanti? C'ho qualche diga O mi funziona Jax? E continuare ad andare avanti Con la tenacity No adesso push Tanto ormai Non serve a un cazzo Quindi Non ci guadagniamo nulla Oh Questo mi piace Cazzo Devo stare attento Mi dicono Vado a prendere la lichbane Oggi sei caldo Beh sono i maniche corte Quindi dai Abbastanza Tipi di Renekton Rip e Drago Sì Ha tippato E lo è la volta buona Che recuperi un po' di farm Dai Minchia Annie 79 Aia Sì ciao Ma sta avanti i chilometri Di farm questo Oh yes Ma c'è ancora il Tibbers Questa Gesù Cristo Sto Tibbers Ma Oh madonna santa Come posso fare Contro questi Come Angoria Che cazzo Cambiava contro Quel team Secondo te Esattamente Peggio di desi Vabbè il Tibbers Più che altro Quando moren Diventa fortissimo Quindi Amen Sono full AP E a parte il Nekton Che vabbè 5-0 Perché insomma È normalissimo Cose che capitano 104 Minion Penso sia un segno Del destino Mi sta dicendo Che devo vincere Sto game Ovviamente ha guardato qua Ok Ok però 3 livelli sotto 140 di farm a Mumu Jungle Bello il farm della partita in generale Prefino Zilin ha farmato Eppiati sti danni Eppiati sti danni Riesco a pushare un po' Arriva tutti Tutti insieme appassionatamente Eh ragazzi Che dite Ce la faccio? Sì Bella la T1 Questi sono soldi Questi sono soldi Sì Sì Si sto andando Becchi Loi tranquilla Tranquilla Pensa a farmare Vai tranquilla Eccolo qua Il buon Nekton Sarà un game difficile Questo ragazzi Sarà un game difficile Io ho bisogno Della vostra energia E dei vostri soldi La vostra energia va bene E' uguale Preparatevi Preparatevi Ragazzi Cazzo Avessi caricato lo stun Qua Eh Avessi caricato lo stun Che cazzo cambiava Prode Pierre Grazie mille Del Prime E benvenuto Nella Felix Army Spara Spara Niente Grazie Pierre Grazie Ma ben nostre Uspe Le tue No di certo Visto che non hai il sub Però mi accontento Di quelle dei sub Sarà dura sto game Grazie dell'energia Adesso arrivo Mi sto scaldando Mi sto scaldando Cazzo Botto non c'è nemmeno Una morte Dai E' qualcosa di positivo Sono indietro Ma giocano safe E non fidano Bravi Io ormai C'ho sei morti Perché Il bordello che è successo qui Lo sappiamo solo noi No Ammazzate l'orso Ok Aiuto Ok Allora calma Non c'ho la ulti Ti dovrei aiutare Ma riesco a fare qualcosa Più che altro Ok Con il loy Con il loy si Ce la facciamo Cosa mi ha ucciso Mi hanno distrutto Ho detto con il loy si Cosa Cosa è andato storto Stani è morta Con la ulti up Madonna santa Che danni che fanno questi Quanto Quanto non muoiono Più che altro Kai 4 a 0 Sì Vediamo i danni Bene Tocca andare a dritti Di zonia Perché sennò qua Almeno una Con i due secondi e mezzo Il problema sarà Quando andranno loro Di zonia Come fa Kai Ad essere così avanti Ragazzi Sì Eh che palle oh Via Attenzione Eh ma qua ci stanno tutti eh Vabbè un minion è quel coso Bello Questi sono soldi Bot Vado io? Vado io Eh quella la prende Vabbè quel fight lì ce la siamo giocata bene devo dire Redekton l'abbiamo asfaltato Ma dato dei soldi Adesso cerco di farmare un po' Sono la speranza del mio team Sono la speranza del mio team Il mio team confida sul Jax AP Il Jax AP non può deludere Alla velocità della luce Salto anch'io Ottimo 1350 per la zona Tocca aspettare un po' Sono al livello qui Sono al 15 Sono parecchio avanti E meno male C'è parecchio avanti Rispetto al mio team Ecco sono parecchio avanti Essere al pari del team nemico Vuol dire essere parecchio avanti In questo momento Vole andare in botta A farmare Così almeno divento grosso Proprio da che mi seguiranno tutti Ah però c'è l'Ossian Ok ok Va benissimo Prendiamo tutti i Minion Oh Tristana sta andando top Contro Kyle Beh ce la può fare Difender dai Ce la fa a difender Sì Bello Bei danni lo hai Belli belli Hello Sexy Sexy Potrebbe arrivare a Mumu Prepariamoci Potrebbe tentare lo Stial Invece no Non c'è storia signori Cioè Eloy ha pigiato un tasto Abbiamo vinto il fight È bello quando è nel tuo team Non nel team avversario Dico bene Dico bene signori Molto bello Doppia zonia Io ci credo Io credo nella doppia zonia Signori Sì Raven ha usato la ultima Erano tutti belli ammassati Quindi l'hai fatto festa Io credo nel potere della doppia zonia Loro hanno due ulti per rendere i mortali E io ho due zonia Così imparate Ora è il mio turno Ok No niente Una zonia andata Soldi Bello Bello Ottimo 50 bombe 50 bombe Due mostacchio Ma grazie mille Del resab Ti dico la kill Spero che basti Oh yes Signori Ho ancora una zonia A disposizione L'altra mi si sta ricaricando No Renekton è bot Per carità Però non penso Possiamo andare oltre Dico abbiamo fatto tanto Un bel lavoro qua Andiamo back No Allora Magic Resist Sì ma neanche troppa Sapete cosa faccio? Faccio questa La Gunblade Fate il nascere Lì non potevamo Di certo Altra zonia Signori Attenzione mi vuole Mi desidera E la seconda zonia Signori ha fatto Il suo corso Un applauso Alla seconda zonia Un applauso Anche agli avversari Che hanno fatto il nascere Mentre ammazzavano Tutti i Renekton 2350 2350 Dobbiamo aspettare il Drake Amici no Amici no Cosa state facendo Amici no Cosa state facendo? È il secondo È il secondo per noi Vabbè Meglio che niente Comunque non si è messi male Per niente Rip Rip me Oddio Cos'era quel flash all'indietro Tristana Ma che cazzo Ma che cazzo Tristana Eh vabbè Rip Ginevra Quattro per squadra Cioè di presto Siamo a quattro Ma continuano a spawnare La prima squadra Che arriva Quattro Drake Non fa più spawnare Drake normali Ok Quindi sigilla la propria anima Di Drake Finiscono di spawnare Drake E spawna soltanto Il Drake finale L'Elder Dragon Tra un effetto diverso Gozzi Grazie mille Però Era la mia intenzione Far Tanto non sarei andato DGA Tempo che rinasco Io sono morti tutti Quindi non avrebbe senso Che schifo i poveri Pure con mille vite L'abbiamo ammazzato Ho trovato un artista superiore Al maestro Tony Nuda Triple kill signori E il Jax si tira dritto E' elegante Grazie mille Grazie mille Dei Dei tre euro Caro Grazie della donation Addirittura E' elegante E' impossibile Mi dispiace Non ti credo E comunque Non lo guarderei adesso Nel caso volessi Linkarmer Ah ma Eni è andata A FK Ecco perché Dicevo cazzo Ma Eni dove cazzo è andata Vai con l'AFK Vinciamo ragazzi Con l'AFK Vinciamo Oh yes Vai dire Abaddon Oddio C'è un troppo magic resist Hanno tanta magic resist loro Cazzo Ah cazzo Quella moving speed Porca puttana Sta madonna di moving speed Che pende dal tp Sì sì Andiamo di magic pen Che partita intensa Cioè se Eni non fosse Non fosse AFK Sarebbe Meno intensa Spero Vabbè ragazzi E' imbarazzante Però adesso Ho finito le ulti Mi sa Eeeh Sono finite Le ulti Kyle Sono finite Sono finite Le ulti Esatto Sì potete chiudere Assolutamente Potete prendere anche la wave bot Basta che pushate qualcosa Basta che pushate Guarda Tanto la potete chiudere Eni è tornata Ok Eni sono andata di nuovo Ma è tipo queste Tristana Dei prendere Le Le Minion Va bene Lo stesso Va bene Uguale Va bene Tristana Oh yes Va bene Particolare Ma va bene Così Un game Assai Particolare Un modello Potrebbe aiutare Ci sono già io Bravo Loic Hai Ultato Tutti E mi danni Raga Lo faccio Contassino tutte le volte Che l'hanno Ultato Avrei fatto 20 kill In più Però Insomma Top damage Più danni di kyle Più danni di kyle Ragazzi non so se ci intendiamo qua Più danni di kyle Di kyle Già Per